A liceo Silvio Lopiano di Cetraro l'andrangheta non deve entrare, la cultura è una delle armi con cui combatterla. E questo è il messaggio che gli studenti dell'Istituto Cetrarese hanno ricevuto questa mattina da parte delle istituzioni politiche, civili e religiose del territorio a corse nel comune tirrenico per scoprire la targa Qui l'andrangheta non entra, apposta sulle porte della scuola. Assente il sindaco Giuseppe Aghieta per motivi personali, al suo posto gli assessori alla cultura Fabio Angelica e al turismo e sport Carmine Quercia. A presenziare l'evento il presidente della commissione antimafia della regione Calabria Salvatore Magarò. La lotta all'andrangheta si nutre anche di simboli, c'è bisogno della forza dello Stato e lo Stato attraverso le forze dell'ordine, nella magistratura hanno inflitto duri colpi alla criminalità organizzata nella nostra regione. C'è bisogno del compito importante della scuola, di educare alla legalità e alla coscienza civica, c'è bisogno dell'impegno delle chiese, della politica e dell'istituzione. Penso però che servono anche i simboli e quello di stamattina è un simbolo importante che vogliamo lanciare qui in questa zona importante della nostra provincia per dire che l'andrangheta non deve entrare innanzitutto nei cuori e nelle menti delle giovani generazioni. C'è tra lo dunque che bissa con l'affissione di questa targa dopo quella già apposta davanti alle porte del municipio. Noi chiediamo a loro di prendere questo ruolo attivo, sociale, importantissimo per fare da barriera allo strapotere, all'arroganza, della violenza, della delinquenza perché nella scuola tutto questo non deve entrare. La scuola è un oasi felice, è un baluardo di legalità e tale deve rimanere perché nella società civile attuale purtroppo ci sono troppo spesso aggressioni, violente, vigliacche alla scuola e questo non è degno di persone civili. Entrare nelle scuole, parlare agli studenti, testimoniare, portare testimoni di legalità, ma soprattutto è importante che ciascuno di noi ogni giorno nell'ambito del rispettivo ruolo sia testimone di legalità. Ciascuno di noi è fondamentale, è insostituibile perché ciascuno di noi dà un contributo fondamentale a che la legalità abbia una concretezza, un significato effettivo. Ecco, questo è, diciamo così, ciò che ci anima in coincidenza con l'inizio del nuovo anno scolastico e la nostra azione quotidiana deve essere testimonianza di legalità. A scoprire la targa proprio gli studenti, tra cui una ragazza diversamente abile. E' verso di loro, infatti, che il messaggio dedicato sarà loro compito evitare che l'andrangheta si infiltri nel territorio grazie all'educazione mirata alla legalità.